Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra le province di Napoli, Ravenna, Piacenza e Caltanissetta un sequestro preventivo di beni del valore di 7 milioni 400 mila euro, disposto dal GIP del Tribunale di Napoli a carico di tre società e due imprenditori coinvolti in un complesso sistema di frode fiscale. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del primo gruppo che, partendo da alert di rischio generati dal sistema postale di Napoli, riguardanti l'anomalo utilizzo di alcuni conti correnti, sono riusciti a disvelare il disegno criminoso ideato da due imprenditori, uno napoletano e l'altro della provincia di Ravenna, operanti nel settore della carpenteria metallica. Agli indagati vengono contestati i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti attuati attraverso la costituzione di numerose aziende di settore operanti su tutto il territorio nazionale, con commesse da imprese per lo più del Nord Italia e dell'Est Europa. Alle società realmente esistenti venivano affiancate diverse società di comodo, costituite solo sulla carta allo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In tal modo si creavano ingenti crediti IVA, nonché l'abbattimento dell'imposizione fiscale grazie alla contabilizzazione di costi fittizi. Nel complesso istitualizio criminale, che dal 2010 al 2018 aveva prodotto oltre 100 milioni di euro di scambi commerciali solo apparenti, aveva utilizzato anche altre 33 persone 28 società intestate a test di legno che hanno concorso a vario titolo alla maxifrode fiscale.